Buongiorno bambini, stamattina prepariamo dei colori a tempera fatti con dei prodotti naturali. Occorre la farina, l'amido di riso di mais, sale e coloranti per dolci e l'acqua. Facciamo questo esperimento, mettiamo un cucchiaio di farina, un cucchiaio di amido, un pizzico di sale, un cucchiaio d'acqua, mettiamo ancora un po' d'acqua, giriamo, mescoliamo bene, aggiungiamo il colorante per dolci, io metto il colore giallo, guardate bimbi, io ho preparato anche altri colori, azzurro con questo colore e anche di rosso, con l'altro colorante rosso. Quindi abbiamo tre colori, azzurro, giallo e un rosso venuto un po' rosa. Io ho disegnato una farfalla, voi potete disegnare quello che volete e potete, usando dei pennelli, potete colorare il disegno che avete, che volete. Facciamo le ali. Questa la facciamo di azzurro. Questa la facciamo di rosa. E' venuto un rosa bello acceso. Anche la faccina facciamo di rosa. Ed ecco il nostro lavoro. Vi è piaciuto? Alla prossima bimbi! Un bacio! Un bacio! Un bacio! Un bacio! Un bacio! Grazie.